Sì, sì, vogliamo continuare sulla wave di intelligenza artificiale? Sì, come no, come no. E allora magicamente andiamo a parlare del nuovo motore di ricerca di Google, che probabilmente si chiamerà Google Magi, un nome osceno secondo me. Non lo so, tu che ne pensi? Quasi mai i nomi che vengono annunciati poi diventano nomi di prodotti veri in Google, appunto li cambiano ogni tre secondi. Tu sai come si chiama oggi Google Drive? Si chiama One, si chiama Drive, si chiama Suite? Ah, Google Drive è una cosa a parte, Google One è un sottoservizio di Google Drive, no? Sì, sì, ok. Drive, lo storage, Docs sono i suoi documenti. La confusione nel mondo Google è sempre stata regnante. E comunque Google Magi. Sì, allora si dice che sia questo nuovo motore di ricerca appunto su cui stanno lavorando 160 dipendenti di Google, quindi in modalità un po' startup, e non è ancora chiarissimo quello che stanno facendo. Cioè, si sa che avrà a che fare con il mondo dell'intelligenza artificiale, quindi un po' un misto tra il sistema di ricerca e la parte di AI agent che stavamo discutendo adesso. Quindi qui fanno un esempio su Wired Italia. Per esempio, se un utente sta cercando un alloggio su Airbnb, può chiedere al chatbot quali sono le attrazioni da vedere nei dintorni. Infine, GIF e Tivoli Tour. Cosa? Ok, GIF e Tivoli Tour. Un'altra coppia di funzionalità sperimentali consentirebbe agli utenti di richiedere a Google Immagini di generare immagini e conversare con un chatbot per imparare una nuova lingua. Ma solo a Tivoli. Solo a Tivoli, che è un comune in provincia di Roma. Sì, se vuoi vedere la villa di Adriano, insomma, quelle cose lì. Sì, se vuoi andare alle acque albule a fare un bagno, sì. Se vuoi andare da Pippo a Tivoli a farti un panino... Da Pippo a Tivoli, porca miseria. La sera che ho preso la patente, il 22 dicembre 1995, da Pippo a Tivoli. Ancora esiste? Non era ancora nato, non era ancora nato. Sì, sì, ancora esiste. Poi, come al solito, con queste istituzioni c'è sempre chi dice, ma era meglio prima, ai miei tempi... Sicuramente. Cioè, io ho mangiato lì 28 anni fa. Quanti anni ha la mia patente, porca miseria? Quanto sono vecchio. Ok. Sì, comunque fanno un pari in chat, giustamente, sì. Tivoli Tutor, non tour. Però faceva più ridere come Tivoli Tour. Il Tivoli Tour era un po', come dire... Prima facevi quell'altro tour al mattatoio e poi andavi al Tivoli Tour a mangiarti il panino da Pippo. Era il classico sabato sera del romano, diciamo, occidentale, romano da ovest. Sì, sì, sì. No, Roma Est, Roma Ovest, Roma Est. Beh, sì, quindi, cioè, in realtà... Oddio, Google negli ultimi tempi sta veramente... Annunciando, ma non facendo. ...mostrando al pubblico la sua... Sì, la sua confusione, no? Sembrerebbe. Tu come te l'immagini gli uffici di Google adesso con questi allarme rossi? Non lo so, però non fanno uscire nulla. Non fanno uscire nulla. Sono, non lo so, un'ipotesi è quella che hanno capito che... Non ti scenari in testa. Uno potrebbe essere che hanno capito che, in realtà, come ha anche annunciato Sam Altman recentemente, che non so se è quello un diversivo, che bene o male siamo arrivati al limite di quello che possiamo fare con questa tecnologia, cioè non è che aumentando in più nodi riusciamo ad andare molto più avanti. Non so se hai visto questo annuncio o se lo siamo persi. Questo forse era interessante, che Sam Altman ha detto non è che con gli improvement siamo arrivati, anche aumentando nodi con questa tecnologia siamo arrivati. Ah, non ho visto questa dichiarazione... Sì, non ho visto questa dichiarazione in particolare. Nella nostra ignoranza, diciamo, avevamo un po' ipotizzato questa cosa già dagli inizi sul fatto che adesso la sfida diventa o cambiare proprio modello, quindi cominciamo a parlare di EGI per e propria, oppure penso si parlerà tanto di qualità dei dati. È interessante, non sapevo che avesse fatto dichiarazioni ufficiali in merito. Sì, poteva essere aggiunto al taberone, lo è stato aggiunto in questo momento, però mi torno in mente per questa domanda che mi hai fatto, che dice che la dimensione non conta. Non facciamo battute, anche perché sappiamo, Sam. Niente, battute, siamo in fascia protetta. Protetta, non è protetta. Allora, ha praticamente detto essenzialmente che vedere la dimensione dei nodi e dei parametri di training come su questa generazione non... In fine, siamo arrivati un po' al capolinea. Qui dice GPT, il rilascio GPT-4, GPT è uno dei più sufficienti, Altman prende un approccio un po' umile e non crede che il large-language model the bigger the better. Non so bene che impatto abbia, non so bene quale sia il motivo politico, diplomatico per fare questa affermazione. Forse vuole anche... Vavo pensando a quello, potrebbe essere anche un modo di tirarsi via un po' alcune attenzioni, dire tranquilli, ma tanto non diventerà peggio di così, quindi non c'è molto di cui preoccuparsi alla fine. Sai, la tecnologia, da quando sono ragazzino, io ho sempre stato in una corsa a prendere un parametro interessante e fare la gara a chi va più veloce su quel parametro, come era sul numero di transistor, velocità di frequenza di clock del processore, poi a un certo punto diventa non più un parametro interessante e si scala in un'altra dimensione. Quindi, in che non vuol dire che siamo arrivati, basta, le AI ha fatto... Però può darsi che quando raggiungi, quando scopri che aumentare un parametro su cui facevi una leva non porta più tanti risultati, magari industrie come Google tirano il nostro spirito di sollievo e dicono ok, al momento l'AI non rimpiazzerà il nostro core business che è servire ads, o quantomeno, non più di quanto lo sta già facendo, perché anche il servire ads è pieno di AI, ovviamente, ma non saranno i large language model a distruggerci, quindi abbiamo ancora, non so, cinque anni prima della prossima wave e allora pensiamo alla lunga e non partecipiamo come pazzi a questa corsa. Però poi comunque un po' dicono cose, annunciano piccoli pezzettini, c'è Lambda, AI senziente, Demoin che scappa, impazzisce, lanciamo Bard, Music, quell'altro, poi adesso Maggi, quindi c'è tanto rumore, nulla di ufficiale, solo sperimenti, quindi in teoria un po' di paura c'è l'anno, sì, sono famose, cioè sono, da più voci ho sentito che c'è un code red che è del tipo ragazzi, fermi tutti, se non risolviamo la faccenda delle AI noi spariamo dalla faccia della terra, però non reagendo o vuol dire che non trovano nulla che sia PR safe, oppure sono in stato confusionale, sì, quello sicuramente è qualcosa di cui si devono occupare, la parte di PR che con chat GPT sicuramente sarà più più gentile, quindi lì stiamo a vedere come la gestiscono. Sì, effettivamente anche quell'annuncio famoso che hanno fatto quando hanno avuto due conferenze negli stessi giorni, Microsoft e Google, hanno annunciato un sacco di cose, però per esempio Bard, penso che la waitlist funziona ancora solo in America, adesso correggetemi se sbaglio, ma io non ho mai ricevuto nessuna, cioè l'accesso l'ho ricevuto solo per gli Stati Uniti e non per l'Italia, per esempio, o per il Portogallo, quindi già quello è una prima cosa, si parla pochissimo di Bard in generale, si parla poco anche di Microsoft, del chatbot di Microsoft Edge, in realtà al momento. Siete che è un po' passato di moda, nessuno lo sta utilizzando per davvero, è un po' passato di moda. Sì, diciamo che il... No, cioè Bing ha stra-aumentato il numero di active user da quando ha introdotto questa funzionalità, viene usata questa funzionalità, non lo so. Sì, penso che le persone comunque si stiano rendendo conto che... Oddio, sì, forse stanno un po' inseguendo il nuovo oggetto scintillante, come si direbbe in inglese, shiny object syndrome. Però con poche risorse, non con troppe risorse, perché se no, non lo so, farebbero qualcosa di concreto sul loro business. Quindi, non lo so, è la classica democristianità di Google che ho sempre mostrato negli ultimi anni. Faccio un po', un po' di qua, un po' ci sto, un po' mi si nota. Mi è sembrata molto poco decisa Google, sempre... Negli ultimi anni sempre solo a inseguire gli altri.